Ed eccoci, siamo sempre qua sul palco di MTV e continuiamo con questa carrellata di grande musica italiana. Ok ragazzi, loro arrivano da Pordenone, si descrivono come un gruppo rock tecnologico. Sono qui, sono pronti, abbiamo fatto il soundcheck, tutto è a posto, però possiamo dire che sono una bella un po' internazionale. Viaggiano tantissimo, alcune canzoni le fanno in inglese, tanto è vero che Theo, il cantante, domani, praticamente domani mattina, parte per New York per andare a registrare un album. Basta le chiacchiere, via con la musica! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!